Non so per quale motivo mi hanno messo l'ultima classe. Solo la coperta vale il pezzo del biglietto. Non siamo ancora partiti e volevano già offrirmi lo champagne, ma ho preso il succo. Nel bicchiere di vieto, logicamente. Sabiettina calda, quelli della seconda classe se la sogliano. Pure le cuffie, sono cuffie che costano un sacco di soldi. Che non so, che non so. Coca nel bicchiere di vetro con il tovagliorino ricamato. Poi la tovaglietta per mangiare. La tovaglia, notate i sedili giganteschi della prima classe. Stavolta si mangia con eleganza qua nei piatti. Una vada incredibile. Ma quante posate mi hanno dato. L'acqua nel bicchiere di vetro. Anche il tè con l'eleganza impossibile. Perfino il pullman che ci porta all'aeroporto. Io adesso lo bevano ai sedili bellissimi. Era vuoto. Prima classe. Biglietta fa apposta a Olta. Non bisogna un po' a posto.